La passione di un Cristo La sua lotta contro una dura realtà Ma, lo vedi anche tu quel tizio con il libro in mano? Quale? Io vedo solo un libro Tre tigri contro tre tigri Il mondo sembrava impazzito Vivere, vivere, corsa alla metà Quanto corsa a fare finta Ma una rivelazione Cambiò la sua vita per sempre Devo cagare Andate a cagare Un film di Steve Kogan Un film di Steve Kogan